Sono stati aggiudicati oggi dalla provincia di Nure i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 3 nel tratto siniscola Sant'Anna e Lodè. Il ripristano delle barriere di protezione stradale e pose in opera di Paramassi da eseguire al chilometro 40. La gara è stata esperita oggi e il giudicatario provvisorio è risultato l'impresa Infrastrutture e Consolidamenti con sede a Cancello e Arnone, provincia di Caserta, che ha offerto un ribasso del 27,022%. L'importo del finanziamento, si legge in una nota, è di 300.000 euro assegnati alla regione nell'aprile 2019, proprio per eseguire un intervento provvisorio utile alla riapertura della strada provinciale 3 nel tratto tra siniscola e Sant'Anna, strada attualmente chiusa per un movimento franoso che è capitato nel mese di ottobre. I lavori, una volta iniziati, avranno una durata di 90 giorni. A questo intervento spiega in una nota Costantino Tidu, amministratore straordinario della provincia di Nuoro, anche a seguito dell'impegno preso dall'assessore regionale dei lavori pubblici Roberto Frongia, nel corso di un incontro con il sindaco di siniscola Gianluigi Farris e il presidente dell'Unione dei Comuni del Montalbo Giuseppe Ciccolini, seguirà un intervento di consolidamento e protezione di tutte quelle parti del costone pericolanti. Questo intervento dovrebbe avere un costo di circa 3 milioni di euro.